Nel corso dei prossimi giorni persisterà un campo di alta pressione sempre molto ben saldo sul Mediterraneo centro-occidentale ma anche sull'Italia che prolungherà questa fase all'insegna del tempo stabile ma non sempre soleggiato su tutta la penisola. Infatti avremo nebbie e nubi basse nottetempo e dal primo mattino in Valpadana a tratti persistenti anche nel corso del pomeriggio ma persisterà anche una diffusa nuvolosità soprattutto su Liguria e medio alto versante Tirrenico e localmente anche tra Campania ed Ovest Calabria. Bel tempo prevalente altrove con temperature molto miti per questo periodo soprattutto sull'arco alpino mentre poi nel corso del fine settimana lo vediamo anche nell'immagine successiva un probabile modesto peggioramento interesserà il medio alto versante Tirrenico e Levante Ligure con il rischio di qualche debole pioggia in marcia verso i versanti centrali Tirrenici ma comunque di poco conto mentre sul resto d'Italia insisterà il bel tempo con temperature ancora piuttosto miti. Ne riparleremo comunque nei prossimi aggiornamenti intanto mi invito anche a scaricare l'applicazione Trebi Meteo su smartphone e tablet per avere previsioni sempre aggiornate sulla vostra località di interesse.